eccomi qui di nuovo per farvi un nuovo video ovviamente questo nuovo video dove vi faccio vedere la mia camera ovvero la mia camera per intero un run tour della mia camera perché volevo riproporre da capo quindi vabbè non so cosa ne vorrà fuori ma speriamo bene e niente vi spiegherò tutto man mano piano strada facendo perché non so cosa ne verrà fuori quindi se questo video vi piace mettete un like nell'altro video non l'ho fatto nulla quindi mettete un like iscrivetevi attivate la campanella e perché no seguitemi su instagram ciao a dopo allora riecomi questa è la porta per dove si entra ovviamente vedete vabbè facciamo fare quel buco che non so come l'ho dato ma vabbè dettagli da qui c'è il mio letto qui la mia scrivania cominciamo dalla scrivania questo è dove mi siedo io per fare i video di solito questa è la mia televisione vedete questo è dove metto tutti i miei trucchi le palette via discorrendo palette questo è il mio combo che è tutto da vabbè da rifare perché è vecchissimo lo vorrei riprendere nuovo ma per adesso non esiste proprio poi questo è il il mio spicchio dove mi trucco ovviamente dove mi trucco e vabbè questo è il microfono che oramai dovrò riprenderlo nuovo lo userò lo stesso come lo potrò usare non lo so sì questo è il filo del microfono se lo vedete ecco qua poi qua ci sono tutti i miei profumini aspettate un attimo un secondo vi dicevo qua ci sono tutti i miei profumini vabbè lì c'è l'acqua termale vabbè c'è un peta che non dopo metto in ordine promesso più che altro a me stessa e qui c'è tutte le cose lì per mettere cioè insomma lì ho i miei portapenneli le mie cosine tutto quanto anche di là ci sono per usare le cose varie il computer l'altra il computer della la tastiera del computer e qui c'è tutti i miei la mia scorta beauty qui lo stesso c'è uno scompartimento per i documenti e cartacei e cartopazze varie qui un cestino per la per la buonezza quando mi faccio i swatch lì c'è una vabbè un pacchettino di salvedere insomma utilizzarmi poche parole e lì vabbè si sa per il computer quello lì per accendere il computer la mia libreria le mie cose la mia gente vedete lì tutta la mia gente anche lì tutta tutta intera poi anche di qua tutta qua tutta l'agenda non l'agenda i dischi che ho ascoltato negli anni passati vabbè lì i santi e cose varie lì una libreria e nulla poi passiamo agli armadio che non per ops stavo cadendo io aiuto il mio armadio e niente che non lo apro perché tanto sapete che lì ci tengo poca roba interessante anzi per nulla interessante qui ci tengo cose mie private che tanto non mi interessa nulla voi avete anche detto di non aprire qui invece vabbè comunque qua ci tengo roba da vestire che tanto non ce ne farò il recap di cosa vesto io qui c'è una sedia dove di solito mi cambio recap della postazione ovvero dove io mi metto a far registrare i video ovviamente vedete allora una sedia qua vedo di qui sul letto come avete visto prima di qua poi qua c'è mette a fuoco ok poi qua c'è un altro comodino un comodino alla destra qua da questa parte e uno alla sinistra ovviamente qua ci sono tutti i miei campioncini di luca fantastiche e farmacia e cose varie vabbè lì santi e santini poi lì il quadro di tutta la mia famiglia e vabbè anche lì il letto eccolo qua ho messo la borsa qui perché non si può metterla ma le scarpe sono di là da quella parte e niente e questo è il mio cavalletto dove io registro questa è la finestra perché se vi chiedete dove è la finestra qui la finestra di fronte mio letto affiancato mio letto come potete vedere si affaccia nella strada vedete che si affaccia nella strada già niente e ritorniamo a farvi un breve check up aspettate recap della stanza allora questo era anzi è la mia stanza da qui siamo rientrati rientrati in stanza questa la mia scrivania del computer dopo c'è tutto il mio beauty e le scorte beauty come suol dire non vuole però già non so perché allora qua c'è il mio comò con tutti i miei visioni e le mie cose il mio quadro della madonna quindi un tappetino che non vi ho fatto vedere per niente ma vabbè un altro cavalletto vabbè qui è un po' disordinato ma non ci fate caso la mia agenda questo qua non so cosa ci faccia vabbè aspettate un secondo allora qui c'è tutto il mio comò agenda e tutta la cosa necessaria per fare i video e via discorrendo ah le mie palette e tutto quanto tutto un recap ecco qui vedete ecco qua e niente e niente questo era tutto quindi ragazze adesso io vi saluto ai finali ed eccomi qui allora sono arrivati ai salti finali ragazze e ci vediamo a un prossimo video ricordate di mettere un bel like e seguirmi su instagram e iscrivervi attivare la campanella e se va commentate sempre nella sezione commenti ciao presto un bacio